Se qualcuno si è appropiato, se qualcuno si è appropiato, se qualcuno si è appropiato un pesce, sono sei di due oltre. E lui li ha fatti tutti, li ha fatti. Però se ci sono vatti un po' non c'è neanche uno che sta provando. Se qualcuno si è appropiato un pesce perché era sua. Esatto, allora sta da con me a con me. E lo fa uno stesso qua. E allora è successo questo. Sì, è una brasiliana. Sì, è una brasiliana. Sì, è una brasiliana. Sì, è una brasiliana. la torzo